Inaugurato all'ospedale Mazzini di Teramo il nuovo reparto di medicina nucleare, trasferito da poco al piano seminterrato del nosocomio. Il nuovo settore è stato situato in locali completamente rinnovati con una nuova gamma camera, in grado di studiare la funzionalità degli organi, patologie cardiiche, neurologiche e oncologiche in maniera non invasiva, formulando diagnosi particolarmente accurate. Innanzitutto abbiamo ristrutturato una zona dell'ospedale che era prima molto disastrata, la medicina nucleare meritava una location adeguata, questo è un primo passo, non è il passo definitivo, adesso però abbiamo un ambiente ospitale, abbiamo un'attrezzatura che è tecnologicamente all'avanguardia, è stato un impegno, non è facile lavorare in ospedali in esercizio che hanno poi anche una complessità di organizzazione proprio interna, però è stato importante, è importante dare alla collettività, che poi è il nostro desiderio finale, un servizio sempre migliore. Ricordo che su questo supplesso che vediamo oggi è in atto con la collaborazione di vari organismi della ASD una procedura per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di PET che attualmente non sono presenti nell'ospedale di Teramo e ci consentirà anche di ridurre la mobilità passiva per questo tipo di esami. Qui già esiste un servizio di ecografia, infatti abbiamo già effettuato la giornata della tiroide, abbiamo dato un servizio gratuito alla popolazione per quanto potevamo fare in una giornata facendo ecografie e visite endocrinologiche. Insieme a questo abbiamo poi anche un percorso legato all'osteoporosi con la DEXA, abbiamo la densitometria ossea e poi arriviamo a questa nuova macchina, la gamma camera, che è nuovissima, che è ancora quasi in fase di collaudo ma ci siamo quasi, dove finalmente potremo studiare tante patologie, in primis la patologia oncologica purtroppo che è tra le prime patologie che noi seguiamo.